Era il 28 dicembre del 2014 quando a largo di Marina di Ravenna vennero a collisione due mercantili, la Lady Aziza e la Gokbel, e morirono sei marinai. Il mare era particolarmente agitato e la visibilità era molto limitata a causa della fitta nebbia. La Lady Aziza, battente bandiera del Belize, dopo molte settimane venne recuperata e condotta al porto di Ravenna, dove è attualmente ormeggiata in Darsena. Tra alcuni mesi, il 19 maggio, sarà messa all'asta e l'importo minimo di base per acquistare l'imbarcazione, attualmente ricoperta di ruggine, sarà di 516.000 euro. La cifra è stata fissata sulla base della perizia eseguita dal tecnico nominato dal Tribunale e si ipotizza che la prima asta vada deserta e che i possibili acquirenti interessati attendano sia fissata una seconda seduta con prezzi ribassati. La vendita è stata disposta dal giudice, mantenendo la salvaguardia dei diritti dei creditori sequestranti e tra questi la società armatrice della Gokbel. L'inchiesta, per definire le colpe della tragedia che costò la vita a sei uomini dell'equipaggio, ha stabilito che la prua della Lady Aziza andò a sbattere contro il lato della Gokbel, creandole la falla che ne causò l'inabissamento, che poi richiese molti mesi e un lavoro minuzioso per il recupero.